alexander mcqueen completamente distrutta lavoro fatto a detta del cliente da un altro calzolaio vedete tutto qui il giallo della colla non proprio bellissimo parti scucite bella rovinata bella consumata adesso li andiamo a lavare ripulire e ricolorare quindi 1 3 4 6 10 11 12 11 12 12 E poi ridare il poteco, cioè adesso lo testiamo, questo è un poteco verde, 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 è un poteco verde. Stiamo su 50, però benissimo. Ricucito tutte le parti scucite qui davanti, ho messo lo stucco, ho tolto la colla vecchia, abbiamo reincollato e adesso stiamo colorando, stiamo, sembra un mago d'elma che parlo in terza persona. Molti di voi chiederanno, ma non usi lo scotch per mettere, per riparare, per fare? Ragazzi, io lo scotch non lo uso perché sono un professionista. Lo scotch è per chi non sa usare il pennello, ma io il pennello lo so usare. Alexander McQueen finita, abbiamo ripulito tutta la colla che c'era, abbiamo anche reincollato i punti che si stavano scollando, abbiamo fatto un rinforzo interno sia di qua che di qua. Riverniciata, pulita, lavata, insomma, tornata nuova. Grazie a tutti. Grazie a tutti.